Ciao a tutti ragazzi, sono GhastBuster e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo sempre nella mia serie in survival e stiamo finendo la battaglia contro il dragone dell'end. Sto continuando, più precisamente, la disattivazione di queste torrette che potenziano il drago. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci rivediamo quando lo avrò finito di uccidere. Grazie a tutti. 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 Ed eccomi che sferro gli ultimi mortali colpi al mio afferrimo nemico, il dragone Cagone. Ancora qualche colpo preciso con l'arco e morirà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh ragazzi, per questo episodio è tutto. Finalmente ho ucciso il drago dell'end. Era ora. Nel prossimo episodio prenderò l'uovo di drago e ci saranno i titoli di coda. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace. Ciao a tutti e alla prossima.